Quali sono gli spunti che la filosofia personalista offre a ciascuno di noi per pensare il tema degli affetti e dei legami? Proviamo a vederlo insieme, proviamo a scoprirlo e direi anzitutto cercando di capire che cos'è la filosofia personalista, che è un filone che con questo titolo attraversa la metà del Novecento e quindi il secolo scorso, ma proviamo a capire soprattutto di che cosa parla, quali sono i concetti fondamentali di questo filone di pensiero, quali sono le loro radici, proviamo a vederlo brevemente, per poi provare a capire quali sono gli spunti che questo tipo di pensiero può offrire alla nostra riflessione contemporanea nel pensare appunto gli affetti e i legami. La prima osservazione che possiamo fare insieme è che il termine persona è un termine estremamente comune, un termine che utilizziamo per riferirci ordinariamente a ciascuno di noi e agli esseri umani. Questo non significa che non sia un termine tecnico dal punto di vista della storia del pensiero e in particolare del pensiero antropologico e teologico ancora prima. Vediamo di capire allora queste radici anzitutto proprio per riuscire poi ad apprezzare anche il significato dei legami comunitari che il pensiero personalista evidentemente coltiva e rispetto a cui ci offre anche una prospettiva. Il termine persona è stato introdotto nel dibattito filosofico a partire dal contesto teologico. È importante risalire a questa radice perché lì dentro già troveremo alcune intuizioni molto interessanti per quanto riguarda il tema delle relazioni. Dobbiamo risalire in questo senso al IV e al V secolo d.C. È un periodo storico in cui si sviluppa la teologia cristiana e un periodo storico in cui soprattutto noi abbiamo un incontro abbastanza vivace tra l'Oriente cristiano e l'Occidente, soprattutto dal punto di vista linguistico. I greci avevano già iniziato a elaborare un pensiero teologico, ovviamente venendo dall'esperienza dei Vangeli e delle prime comunità e in quell'epoca si discute soprattutto dei grandi dogmi della fede cristiana. Due fondamentalmente, il primo è il dogma della Trinità e il secondo è il dogma della natura umana e divina di Cristo. Cose che potrebbero sembrarci un po' lontane nel tempo e forse anche dai nostri interessi, ma in realtà sono molto interessanti proprio perché è in questo contesto che viene introdotto il termine persona. Partiamo dalle dispute trinitari. Siamo un po' all'inizio di questa grande riflessione teologica. I riferimenti storici che noi possiamo avere sono i grandi concili di quell'epoca, il concilio di Nicea del 325, poi ci sarà il concilio di Costantinopoli del 381 e poi ancora nel 451 il concilio di Calcedonia. Sono tre momenti importanti, tre grandi convegni potremmo dire dell'antichità, in cui vengono utilizzati questi riferimenti teologici per discutere di che cosa? Inizialmente per discutere di questo grande dogma che è appunto l'unità e trinità di Dio. Che cosa significa? Significa riconoscere che c'è un unico Dio, quindi non c'è una pluralità di dei, ma che allo stesso tempo quest'unico Dio si esprime, si manifesta e si può incontrare in tre modalità diverse. Uso un termine non tecnico in questo senso. E noi appunto dalla tradizione cristiana sappiamo che queste tre figure sono la figura del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. I teologi hanno discusso molto su come concepire qualcosa che è insieme uno e insieme tre. E ovviamente c'è stato un grande dibattito su tutto questo. I greci avevano le loro risorse concettuali per provare ad esprimere questo, avevano una tradizione filosofica forte e in questo senso utilizzano due elementi. L'idea della sostanza, dell'usia, per dire che c'è una stessa sostanza, quindi sono esattamente la stessa cosa, questo voleva esprimere l'unità, e dall'altra parte c'è questa idea del tre, della Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito, e i greci hanno a disposizione un altro termine che è il termine ipostasi. Questi due termini vengono impiegati nell'elaborazione teologica, ma il problema è che i latini non hanno qualche cosa di analogo. I latini avevano un po' di difficoltà nel dire come traduciamo queste cose, non si accontentavano di traslitterarle come si fa molto spesso. In questo contesto viene recuperata un'idea che è già di alcuni secoli prima, del secondo o terzo secolo, l'idea di Tertulliano, e cioè quella di tradurre ipostasi, lo sto traslitterando anche in questo caso, con il termine persona. Il termine persona è un termine che arriva addirittura dall'antichità etrusca, si pensa possa essere riferito a una divinità persepona, da cui deriva un po' questo termine, ma sostanzialmente l'idea è che la persona rappresenti il volto, rappresenti un po' l'irripetibilità di ciascuno e in questo senso allora viene utilizzato questo termine proprio per dire c'è un unico dio ma in tre persone. Quindi c'è questo tipo di lavoro che viene fatto nell'antichità. Quindi vedete che inizialmente il termine persona viene utilizzato, e questa è la cosa che ci può interessare, sia per dire l'irripetibilità di una figura, ma anche per dire che è una figura in relazione. La Trinità un po' esprimeva questo grande mistero per gli antichi teologi. Dopodiché c'è un altro problema, e cioè quando abbiamo stabilito che Cristo è una persona, beh Cristo è un uomo, è anche un dio sempre nella tradizione cristiana, e quindi lì si utilizzeranno altri concetti come per esempio il concetto di natura, e allora si dirà che c'è un'unica persona di Cristo, ma poi ci sono appunto due natura, quella umana e quella divina. A noi questo aspetto interessa evidentemente meno, ma questo piccolo richiamo è importante per capire che il concetto viene utilizzato inizialmente non per riferirsi agli uomini, ma proprio per riferirsi a Dio anzitutto. E attraverso questo rimando poi si comincia a parlare anche degli uomini come persone. Quest'idea sarà un'idea che poi attraverserà i secoli, arriverà anche nel Medioevo, e viene sviluppata proprio per ricordarci allo stesso tempo che questa grande capacità di entrare in relazione pur rimanendo irripetibili è qualche cosa che caratterizza l'essere umano. Nel Medioevo, in particolare nel XIII secolo, ci sarà uno sviluppo importante anche di questi concetti. Già prima ci saranno alcuni autori che metteranno a fuoco tutto questo, sicuramente c'è Boezio per esempio che regala all'Occidente latino soprattutto la prima grande definizione formale di persona. La sua definizione sarà questa, la dico in latino, nature rationalis individua substanzia, cioè una sostanza individuale, vedete che ritorna a questo tema della sostanza, di natura razionale. Che cosa significa nella definizione di Boezio, che poi verrà utilizzata in maniera molto larga anche da Tommaso d'Aquino nel XIII secolo? Significa riconoscere che una delle grandi caratteristiche dell'umanità e insieme anche appunto dell'idea del divino, dell'idea di Dio che si manifesta e che si coltiva nella tradizione occidentale è proprio questa, la capacità di riflessività, la capacità di pensiero che non è il raziocinio ma è in maniera molto più ampia la capacità di sentire la realtà, di percepire quello che ci circonda, di trasformarlo in pensiero, in meditazione e quindi di agire nella realtà a partire da una riflessività molto potente e molto sviluppata. Quindi è l'idea proprio del superamento dell'immediatezza, dell'istinto, ma la capacità di fare tesoro delle esperienze e di modificare anche la realtà di conseguenza. Quindi la natura razionale ha questa caratteristica. Ricordarci che il riferimento è a Dio ci fa capire appunto che non stiamo parlando di puro calcolo, stiamo parlando di una capacità molto ampia di essere presenti e di partecipare alla realtà, che è un po' l'idea che avevano gli antichi anche del Dio creatore, che è un Dio che si piega sulla realtà, che cammina anche nel giardino, se ricordiamo l'immagine biblica, che quindi interagisce, ecco, con dei partner soprattutto. Ecco che nell'idea di razionalità c'è anche già questa idea anche della comunicazione, del fatto che il cambiare le cose, l'agire nella realtà è qualche cosa che si fa soprattutto insieme agli altri, verso gli altri e anche misurandosi dialogicamente con gli altri. Quindi queste caratteristiche noi le ritroviamo proprio nell'idea già antica di persona. Poi quest'idea appunto si sviluppa nel tempo, sappiamo che c'è una riflessione appunto, vi dicevo, attorno al XIII secolo con Tommaso d'Aquino che cerca di capire come la singola persona si rapporta alla comunità, alla comunitas, alla civitas in quell'epoca e quindi che cosa avviene prima, si potrebbe anche dire. Ebbene, già in questo tipo di riflessione Tommaso stesso sarà l'autore che ricorda come è vero che ciascun individuo, ciascuno di noi come individuo fa parte di un insieme molto più ampio e quindi in qualche modo la totalità di quello che noi siamo è più grande e forse più importante potremmo dire dell'individuo, ma dal punto di vista della persona invece la persona è superiore anche a tutto questo insieme in cui noi potremmo ritrovarci. Che cosa significa? Che è forse un po' paradossale, ma il pensiero occidentale comincia a lavorare su due concetti diversi in realtà. Sul concetto di individuo, l'individuo si definisce per essere parte di qualche cosa e quindi alle volte addirittura potremmo dire parte sacrificabile per il tutto, ma ci viene anche ricordato che l'essere umano è sì individuo ma è anche persona. La persona non è mai sacrificabile per altri, a meno che non lo decida lei stessa ovviamente. Quindi in questo senso la persona ha una dignità assoluta anche quando in relazione con gli altri. L'altro non può essere mai cioè uno strumento a nostra disposizione. Questo è quello che il principio persona trasmette fin dal Medioevo ed è bello pensare proprio che iniziamo ad avvertire questa sorta di polarità. Da una parte il rapporto con una comunità che è più grande e che ci supera e che può chiederci delle cose, dall'altra parte il limite alle richieste che una comunità e una società può fare all'individuo. Questo limite non è dato dal fatto di essere individui, ripeto, ma dal fatto di essere riconosciuti come persone, cioè come qualcuno che ha una dignità assoluta che non può essere in alcun modo calpestata. E anche un po' vedete qui l'idea della libertà. Nessuno può essere violato nella sua libertà anche se fa parte di un sistema più complesso che può avere le sue esigenze. Quindi l'esigenza che nasce è sempre quella di una mediazione tra la comunità, sia tra le esigenze della società e di quello che noi costruiamo insieme e le esigenze della singola persona che appunto vanno sempre rispettate e di cui bisogna tenere conto. Questa dialettica la conosciamo ed è studiata fin dal Medioevo e poi noi ce la ritroviamo anche nei secoli successivi e in particolare nel Novecento di cui iniziamo a parlare adesso. È nel Novecento che noi troviamo anche nei manuali un filone filosofico che è chiamato appunto personalismo. Di più è chiamato anche personalismo comunitario. Questa caratteristica appartiene soprattutto al pensiero di due grandi autori, di uno in particolare ma sono due quelli che sono i punti di riferimento maggiori e sono Emmanuel Mounier e Jacques Maritain. Di loro due vorrei dirvi qualche cosa perché sono quelli che utilizzano maggiormente questi concetti che ci aiutano a pensare in termini contemporanei il rapporto tra la persona e la comunità. Prima però vorrei portarvi nel contesto storico in cui nasce tutto questo. Siamo negli anni Trenta, siamo in un'epoca molto particolare di cui faremo bene a ricordarci e vorrei rappresentarvi o tornare insieme a voi in quell'epoca partendo da alcune immagini di un film che forse avrete visto e che riproduce un romanzo del 1925 che è Il grande Gatsby. Dove è contestualizzato questo romanzo? Beh, è contestualizzato nell'America degli anni venti. Forse ricorderete che quell'epoca è conosciuta anche come gli anni ruggenti. Sono anni di grande sviluppo, di grande benessere, anni in cui ci sono grandi sperimentazioni artistiche, letterarie, in cui sembra che il mondo stia crescendo e si stia sviluppando. Sono anni in cui si costruisce un benessere molto forte a debito e cioè prendendo risorse dal futuro. Questa manovra che dura per un certo tempo a un certo punto esplode, noi sappiamo che esplode nel 1929 e quindi c'è una grande crisi e improvvisamente ci troviamo in una grandiosa depressione, una crisi economica che raggiunge molto rapidamente anche l'Europa. Il personalismo nasce in questo contesto qui, cioè nasce in un contesto in cui c'è una crisi del sistema capitalista, una crisi del tipo di sistema economico che era stato creato e di contro c'è anche un'altra grande sperimentazione molto potente che sta avvenendo in quella che è l'Unione Sovietica ormai e che è la sperimentazione comunista che era nata alla fine dell'Ottocento idealmente, lo sapete con Marx in particolare, ma perché poi diventa qualcosa di concreto in quelle terre. Quindi la crisi di un sistema, la proposta di un altro sistema che sembra essere estremamente interessante e in questo contesto si sviluppa il pensiero appunto personalista. Cerchiamo però di entrare in questo contesto di riflessione proprio a partire da alcune immagini che per quanto ricostruite possono aiutarci a capire culturalmente dove eravamo negli anni 20, alla fine degli anni 20 e all'inizio degli anni 30. New York, 1922. Il ritmo della città era cambiato radicalmente. I palazzi erano più alti, le feste più sfarsose, la morale più libera e i licuori più scadenti. L'irrequidezza rasentava l'isteria. Chi è questo Gatsby? Lo conosco. Un eroe di guerra. Il signor Gatsby non esiste. Gatsby? Quale Gatsby? Domando scusa. Il signor Gatsby vorrebbe parlarle in privato. C'era. Quando ho avuto il piacere di fare la conoscenza del signor Gatsby ho scoperto un uomo dai modi raffinati. Molto interessante. Va tutto bene? Oh sì. Sempre così elegante. L'uomo dagli abiti eleganti. Trovo interessante questa sottolineatura che avrete notato. Un'epoca in cui l'irrequietezza rasenta l'isteria. E forse qualche cosa che ci richiama anche gli anni che noi stessi oggi abbiamo alle spalle. Qualche cosa di molto simile si è verificato dalla fine degli anni 90 sostanzialmente ai primi decenni del terzo millennio. È un'epoca in cui siamo arrivati anche noi come società occidentale a pensare che tutto sarebbe cresciuto in maniera esponenziale, che la ricchezza si sarebbe un po' così espansa senza troppi problemi. L'abbiamo costruito il futuro facendo grandi debiti e oggi ci troviamo in qualche misura a pagare questo stesso tipo di manovra. E quindi noi siamo molto avvantaggiati proprio per capire che la sensibilità che matura nel personalismo negli anni 30 potrebbe esserci anche nel nostro tempo. Quindi quando noi guardiamo a quella che erano le promesse che avevamo alle spalle di benessere e quando ci interroghiamo oggi su un sistema che deve cambiare, su una serie di problematiche di organizzazione anche sociale, comunitaria, sulle problematiche delle relazioni, siamo molto simili alle persone che facevano la riflessione personalista negli anni 30. Con questa percezione allora andiamo a vedere che cosa sostanzialmente viene proposto in quel tempo e in quell'epoca da parte di questi autori. Partiamo da Meunier. Meunier in realtà è più giovane rispetto a Maritain. Meunier nasce nel 1905, morirà piuttosto giovane nel 1950, quindi fate un po' i conti, ma negli anni 30 è un 25enne sostanzialmente e a quell'età che cosa fa? Fonda una rivista culturale che si chiama Esprit, dove propone una serie di idee che pian piano conquisteranno anche un vasto consenso dal punto di vista culturale. Qual è l'idea di fondo di Meunier? È che se da una parte c'è un sistema in crisi, che è il sistema capitalista, che è basato sul consumo, sulla materialità, in qualche modo anche su questa irrequietezza che non trova pace ma che non prende seriamente le cose, e dall'altra c'è invece un sistema che prova a lavorare molto sulla comunità ma spegne la dimensione spirituale, spegne la dimensione personale, dell'irripetibilità personale, allora quello che occorre davanti a questi due poli è immaginare una via diversa che riesca a rilanciare l'importanza da una parte della dimensione spirituale e dell'irripetibilità della persona, dall'altra però anche l'attenzione alla comunità, a quello che si costruisce insieme, evitando di così infilarsi in modi di vita che esaltino l'individuo ancora una volta senza tener conto della dimensione d'insieme, della dimensione appunto comunitaria. Ecco perché Meunier propone nei suoi scritti una rivoluzione che sia personalista e comunitaria, quindi che abbia allo stesso tempo l'attenzione verso l'irripetibilità di ciascuno, quindi uno non è soltanto l'ingranaggio di un sistema, non è soltanto un numero dentro una massa più anonima, ma è qualcuno di irripetibile che va rispettato e non può essere sacrificato per il sistema e in questo c'è tutta la critica anche ai totalitarismi, al sistema comunista, dall'altra parte però c'è anche la critica al sistema capitalista nel dire attenzione che questa irripetibilità della persona non può essere giocata al di là delle relazioni, contro le relazioni, come se fossimo delle isole, ciascuno isolato, ciascuno lanciato nella propria corsa, nella vita, senza tener conto degli altri e senza farsi carico anche di quello che gli altri possono avere come bisogni, condividendo soprattutto una serie di beni che possono diventare quello che poi, soprattutto Maritene, recuperando la riflessione più antica, chiamerà il bene comune. Dunque, Mounier, molto interessante perché appunto è un giovane che reagisce a quella atmosfera degli anni venti ormai decaduta, ormai andata in frantumi e propone alcune grandi letture, alcune grandi riflessioni attraverso però che cosa? Attraverso degli articoli su una rivista scientifica, su una rivista culturale più che scientifica potremmo dire oggi, oggi è diventata una rivista scientifica, esiste ancora, e il lavoro di Mounier, quello principale, è condensato in questo testo che si chiama appunto L'evoluzione personalista e comunitaria. Ci sono raccolti i suoi articoli fondamentalmente, sono molto molto leggibili, ha uno stile Mounier molto interessante e molto fresco, sembrano scritti per un post da Facebook della scorsa settimana e quindi è un testo che vale la pena di essere ripreso proprio perché ha un linguaggio estremamente fruibile. Mounier vi diceva è molto giovane, Mounier lavora in quell'epoca ritrovando il principio persona, ma si appoggia anche a un altro grande autore che è Jacques Maritain, che è molto più maturo. Maritain nasce invece nel 1882, morirà nel 1973, quindi dopo una vita molto lunga, e invece la sua opera sarà più rigorosa, potremmo dire, dal punto di vista teorico per certi aspetti, la sua scrittura è anche più difficile per certi aspetti, ma sarà un autore che fisserà alcuni elementi di critica teorica in questo caso, soprattutto ai totalitarismi, e che ancora una volta utilizzerà questi riferimenti. Svilupperà molto il pensiero teorico sull'idea di persona e anche il pensiero sul bene comune. L'idea di comunità in Maritain passa attraverso questa figura che già prima vi citavo, e cioè passa attraverso l'idea che noi abbiamo sia un destino personale a cui badare, di cui occuparci, ma insieme noi possiamo costruire delle cose insieme agli altri. Una delle idee fondamentali che vorrei ricordarvi in questo senso e che appunto riguarda il tema della comunità è questa. C'è una grande differenza, in fin dei conti sostiene Maritain, tra il concepirci insieme, perché siamo costretti a stare insieme e quindi concepire una società che è fatta soltanto di una serie di regole del gioco, entro cui ciascuno si muove facendo la propria partita, rispetto al concepirci invece insieme perché desideriamo costruire un futuro insieme. Una cosa è essere accomunati da delle regole soltanto, una cosa è essere accomunati da un destino, da un desiderio, da un progetto in particolare che ci riguarda e rispetto a cui ciascuno decide di contribuire fattivamente in qualche modo. Lavorare per il bene comune è lavorare per questo, e cioè entrare in un'ottica di comunità per cui io non soltanto accumulo e sviluppo qualche cosa che è a mio vantaggio, ma anche e soprattutto devolvo qualche cosa, offro qualche cosa per tutti perché mettendo insieme questo contributo di ciascuno ne viene fuori qualche cosa che è maggiore, si dice, della somma delle parti, questo è il bene comune e diventa un beneficio che ricade un po' su tutti, ma su tutti quando appunto vivono insieme. Quindi l'idea di comunità che ci trasmette Maritain è questa soprattutto, è una comunità che si riunisce attorno ad un progetto comune. È anche molto diverso, possiamo intuirlo, immaginare una comunità come un gruppo di persone che ha una provenienza comune e questa si capisce anche che la critica che all'epoca viene fatta soprattutto ai totalitarismi, in particolare al nazifascismo. Lì che cosa si diceva? Che c'è una comunità di sangue sostanzialmente, una comunità di razza si diceva, in cui le persone stanno insieme perché hanno lo stesso ceppo, provengono dalla stessa radice. Maritain invece dice di no, dice attenzione, che quello che caratterizza l'umano, proprio perché la capacità razionale, la ritroviamo appunto nella radice antica, proprio perché la capacità discorsiva di ragionare sulla realtà e di cambiarla, allora proprio perché l'umano ha questa capacità, che capacità di fare progetti, l'umano si realizza in comunità quando progetta insieme. E progettare insieme è tracciare uno sviluppo possibile di una società e di una convivenza, che ovviamente deve avere le sue regole, ma che prima ancora ha l'idea che insieme si può camminare, insieme si può costruire e insieme si vive meglio. Queste sono alcune delle intuizioni, se volete un po' semplificate, basilari, ma che troviamo molto sviluppate appunto nel pensiero di Maritain. Da notare anche che il pensiero di Maritain diventa estremamente importante per tutte le avventure politiche che poi segneranno gli anni del dopoguerra. Ricordiamoci che nel 1943 un gruppo di persone che si radunerà a Camaldoli scriverà quello che sarà poi noto come il codice di Camaldoli e se andate a cercare questo contributo noterete che ha moltissime cose in comune con la nostra Costituzione. La Costituzione attingerà in maniera molto forte a questo documento che proverà a tracciare idealmente il progetto comune anche per l'Italia del dopoguerra e la radice profonda sta proprio nel pensiero personalista e comunitario, in particolare soprattutto nelle intuizioni di Maritain, nelle sue così proposte teoriche e anche sicuramente nella freschezza e nelle idee che ci trasmetteva Meunier. Poi Maritain avrà un grande influsso anche su altre Costituzioni, su quella tedesca, ma anche su tutte le Costituzioni che verranno scritte successivamente nell'America Latina dove viaggerà molto e quindi quest'idea della persona che ha una sua individualità naturalmente ma anche vive di relazioni diventa un'idea estremamente propulsiva, estremamente importante anche per gli sviluppi migliori che conosciamo nel Novecento e che poi porteranno anche tra le altre cose alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Bene, così abbiamo fatto un po' di storia. Mi riservo gli ultimi minuti per darvi qualche spunto ancora di tipo teorico per pensare proprio il tema dei legami e degli affetti a partire dal pensiero personalista e comunitario. Vi riporto in questo caso a una definizione che ci dà invece Meunier di persona con l'invito a meditarla, con l'invito a così pensare dentro questa definizione il modo in cui si possono vivere appunto gli affetti e i legami. Meunier che cosa dice? Non utilizza la definizione classica che vi ho riportato prima di Boezio e poi di Tommaso, utilizza una definizione nuova, se vorremmo la inventa lui, e dice che la persona è costituita sostanzialmente da tre dimensioni e da tre direzioni di sviluppo, dice ancora più propriamente. Le condense in tre parole, vocazione, incarnazione e comunione. Per poter vivere bene con se stessi e con gli altri occorre sviluppare sempre queste tre dimensioni. La vocazione, cioè l'idea che ciascuno risponde a una chiamata, che è una chiamata di vita, una chiamata di realizzazione di qualche cosa di assolutamente particolare e individuale appunto, ma è anche l'idea che si è strutturalmente in dialogo, si è in dialogo con altri che ci interpellano, che ci chiamano, che ci invitano a fare qualche cosa e quindi noi siamo una risposta anzitutto. Quindi la nostra natura personale è la nostra capacità di rispondere, qui potremmo anche dire che possiamo declinare la responsabilità in senso molto ampio. Quindi vocazione è la prima grande coordinata, ascoltare se stessi, ascoltare la vita, ascoltare gli appelli degli altri per capire qual è il nostro posto e quindi in che modo noi possiamo contribuire a costruire una comunità e una società nell'ottica del bene comune. Incarnazione è la seconda coordinata molto importante perché dice che ciascuno è in fin dei conti collocato in uno spazio e in un tempo. La persona, dirà Mounier, rappresenta la capacità di ciascuno di assumere queste coordinate, di non fuggire dai luoghi, dai tempi e dalle situazioni in cui ci troviamo, ma di assumere tutto questo e di capire qual è quel bene che può essere realizzato in quelle condizioni particolari. E come dire, impariamo a distinguere tra le situazioni e i problemi. Le situazioni vanno accolte, attraversate, anche se ci stanno scomode, anche se non ci piacciono. Figuriamo appunto che questi autori vivevano poi in un'epoca che avrà portato al grande conflitto, ma dentro le situazioni ci sono dei problemi a cui noi possiamo dedicarci, a cui possiamo dedicare la nostra creatività e quindi possiamo dedicarci anche al cambiamento, naturalmente sempre in quest'ottica di risposta insieme agli altri. Quindi l'incarnazione è molto importante. E la terza, naturalmente, comunione. La persona è chiamata a vivere insieme agli altri. Allora nel fare tutto questo, nello sviluppare la propria vocazione, la propria chiamata, nell'abitare il proprio tempo, ricordarsi che il modo per fare tutto questo è comunitario, e cioè vivere in una trama di relazioni che diventano significative, a cui rispondiamo e che ci nutrono così come noi le nutriamo. Le relazioni allora sono questo grande contesto, un contesto affettivo appunto, in cui noi ci collochiamo e senza cui la nostra vita personale non riesce a sviluppare neanche i compiti individuali che noi potremmo immaginare, neanche i grandi sogni, i grandi disegni che dal punto di vista individuale potremmo voler coltivare. La dimensione comunitaria ci ricorda che gli affetti, in prima battuta, sono qualche cosa che richiede a noi la fedeltà, richiede la stabilità, richiede di poter rimanere insieme, coltivare insieme qualcosa del tempo e quindi gli affetti sono in definitiva la prima grande cosa che ci ricorda che non possiamo affrontare la vita soltanto in termini di consumo. Gli affetti non si lasciano consumare, questo noi lo sappiamo molto bene dalle relazioni e quindi ogni volta che immaginiamo i legami con gli altri dobbiamo ricordarci questa grande lezione del personalismo comunitario. Sviluppare da persone relazioni affettive mature e autentiche significa ricordarsi della fedeltà, della continuità e della necessità di offrire sempre qualche cosa agli altri, cioè di presentarsi alla tavola comune non soltanto esigendo qualche cosa per noi ma anche con una propria dotazione, con il desiderio di offrire qualche cosa proprio perché insieme si possa costruire qualche cosa di diverso. Quindi i legami che si costruiscono non sono legami strumentali nell'ottica del personalismo comunitario, non sono legami che sono soltanto di utilizzo, di utilità, utilitaristici, non sono legami che sono orientati soltanto a massimizzare il profitto per se stessi ma sono legami che sono legami anzitutto di donazione, di donazione evidentemente anche reciproca. Quindi questo è un po' il messaggio che il personalismo comunitario ci lascia, semplificato naturalmente insieme a tante altre ricchezze che il personalismo comunitario ci ha lasciato e che ci ricorda ancora appunto come noi dicevo all'inizio. Siamo sicuramente degli individui quindi sentiamo il bisogno anche di ritagliarci gli spazi del nostro, della solitudine, dell'individualità, dell'isolamento dagli altri ma questo è soltanto uno degli aspetti della nostra natura, della nostra realtà. L'aspetto più importante, l'aspetto morale, l'aspetto più espansivo della nostra umanità è l'aspetto della personalità, cioè di questa capacità non tanto di affermare noi stessi ma quanto di entrare in relazione con gli altri, di meditare sulla vita, di farlo insieme agli altri e di disporci ad offrire qualche cosa nelle relazioni in cui siamo immersi, nelle relazioni che desideriamo coltivare. Coltivare allora le relazioni e in particolare le relazioni affettive significa ricordarsi di questa tridimensionalità che abbiamo costruito un pochino chiedendo aiuto a Mounier, quindi coltivazione della propria vocazione, quindi meditazione, riflessione su quello che siamo chiamati a fare, incarnazione, riconoscimento delle coordinate che qui siamo, non evadere, non voler scappare, non voler andare da altre parti ma assumere la situazione in cui siamo, comunione, declinare, cioè queste prime due grandi coordinate, il rimanere e il meditare e il trovare anche quella che è la nostra strada però sempre insieme agli altri in una trama di fiducia e di fedeltà costruita pazientemente insieme agli altri. Queste sono alcune ecco delle intuizioni di base, vi dicevo poi naturalmente gli autori che vi ho citato meriterebbero grandi approfondimenti, non ci sono solo loro, ce ne sono molti altri a partire dagli anni 30 che si occupano di tutto questo però sicuramente è un filone di pensiero che va riscoperto e per il cenno che vi facevo all'epoca di transizione che anche noi oggi viviamo sicuramente è un filone che potrebbe essere interessante da approfondire, da ritrovare proprio per chiedere a questi autori chiavi di lettura per vivere e affrontare questo tempo di cambiamenti e di post crisi o ancora di crisi per molti aspetti che stiamo attraversando. Vi affiderei quindi senz'altro alla lettura e alle pagine di questi grandi autori perché possiate gustarli e perché possiate trarre dalle loro dirette parole le intuizioni fondamentali di questo pensiero sulla dimensione personale e comunitaria. Grazie. Grazie.